Ci siamo, siamo pronti ad affrontare il terrificante scream. Oh mio Dio, mi stai già stoccando? No, non lo so. Sento un suono veramente poco piacevole. Hai sentito il terrore? Mi sono velocissimo in stealth. Ok. Oh mio Dio. Sei del raggio di terrore? Pronto? Sì. Ah, questo è interessante. Quindi ora cosa hai fatto? Hai caricato il potere? Sì. Eccoli qua. Bellissimo. Ah, ti ho guardato e è finito. Mi hai sgamato, mi hai sgamato. Ok. Sì, sì, mi hai sgamato. Capito? Fai farlo sparire. Adesso si sta ricaricando qui. Giusto? Down. Ok. Ok. Ok, solo hai attivato. È scomparso. Quindi io non so. Quindi mettiamo che io vengo qui dietro. Ok, ora ti ho visto e l'hai perso. Chi è riscato. Chi è riscato. Jack. No! Dio! Bellissimo! Dio! Dio! Ah, però è figo, eh. Fatti guarda. Allora, io vado al centro e mi metto a fare un jump, per esempio. Ah, sei vicino? Ho sbagliato. Se colpisci, si se ne va, eh. Allora, mi stai guardando. Ora non mi stai guardando, vero? Aspetta. Sto cercando di capire il gatto. Mi stai guardando. Dove cazzo stai? Eccoti. Madonna, è difficile. Bella la musica quando vieni a scoprire. Ti ho sgamato? No. Prova a ricaricarti e andare in stealth. Ah, sì, mi avevi sgamato. Domanda, vai in stealth. Aspetta. Sai, non stiamo guardando, lo so, questo è un controintuitivo. Ok, sono in stealth. Perché voglio provare. Se durante il seguimento io mi giro per vederti. Vai. Ok. Sì, l'ho fatto. Ok. Ma perché sei... Quindi se scappo e mi botto vero... Ma quanto sei veloce però, mamma mia. Ah, cazzo, è velocissimo. Wow. Mamma mia quanto è veloce. Veramente velocissimo. Problema. Comunque se scappo e mi giro te la levo questa. Ok. Hai visto? Che è successo? Mi avevi messo la vulnerabilità. Ci abbiamo fatto. No, ci abbiamo quasi fatto... Guardami. Ok, la vulnerabilità giustamente ha un cooldown. Ah, però tu non sei curato. Va bene, il cooldownio. Allora. Lo sappiamo come funziona questo. Molto bello. Andiamo un po'. Molto, molto bello. Vabbè, uno che è in pubblico, in PTB non mette Ghostface è uno stronzo però. Ma siamo pieni di deficienti ambulanti. Ce ne sono parecchi, Brown. Ecco il killer. È lui? Sì, sì, è lui, è lui. Lo sento. 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 Sciottarti se lo vedi. No, però se prima ti mette esposto e poi lo guardi, te lo metti. Lo stunnato, lo stunnato, gioveni. E state sta finendo. E Ghostface se ne vanno. Ma è velocissimo. Raga, aveva ragione. È un assassino. posto il pallet non penso di salti giusto brand c'è il perchè quello lì che blocca il gen quando raccogliono un tizio da terra come blocca let's do generator ma l'ha già fatta fa un bocca a mamma ma io non trovi un pallet nervioso no non c'è il pallet finito for the moment no vaga proprio sopra soprattutto sopra dentro la casa ok va bene io porto avanti pure un po questo così siamo su più zone non l'ha calciato sono in casa potete andare per uscite ma mi comincia prima finita ah sono vicine vediamoci dal cazzo mi sta stalkerando dalla vostra destra aia ciao no non ti ha buttato vedi a te vedi a te a me perchè mi ha buttato perchè a te vedi che ti ho fatto un boom lo puoi fare uno per volta ok ok sei tu quello con la casacca dell'espansione si sono questo qua ok e dietro di noi è arrivato l'arrotino brauni no no non si può non sono riuscito a fare il the dark ok ok do with another eh era finito il cazzo no ragazzi non lo riesco nemmeno a vedere giusto ok lo vedo pezzo di merda selfie selfie sì fotografi misteri solo con questo scatto ehmìa 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 emilio se io vengo preso lo porto lontano e ti vieni alla botola quale vieni? dov'è la botola scusi? cazzo ma te te la botola no dopo te lo spiegava te lo spiega a bravo dietro dietro di te ma io voglio fare un genere però aspetta e poi ci vado da poco e quello di ehm quello di prizio era già buon punto eh quale? ehm ecco praticamente quasi eh bene mori? allora ti corre il culo sinistra è mio sinistra è mio sinistra c'è tra botola ecco la eccola si aperta subito però eh sì eh per il mori se lo appendevi doveva aspettare l'animazione se lo appendeva ciao 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 ciao